E ben trovati in diretta, uno mattina estate, continuiamo a parlare dei 30 anni della strage di Via D'Amelio, ma torniamo a collegarci subito proprio con Via D'Amelio a Palermo, dove c'è per noi il collega della TGR Sicilia, Salvatore Fazio, che ci sta raccontando in modo totalmente originale che cos'è quella Via D'Amelio, il crocevia con la storia e con la vita di tante persone, il crocevia del quotidiano, che ha incontrato la storia e la mafia, la strage di mafia che ha portato alla morte di Paolo Borsillino e dei suoi agenti di scorta. Salvatore, qual è la terza storia che ci vuoi raccontare? Rieccoci Maria, ci troviamo sulla terrazza della casa di Raffaele Lupo. Lui si trovava qui, il momento dell'esplosione, si è affacciato proprio da questa terrazza, facciamola anche noi, guardate, questa è Via D'Amelio, vista dall'alto, uno scenario completamente diverso da loro, da oggi ci sono le celebrazioni, ma immaginiamo le scene di allora, il fumo, le fiamme, scene che noi vediamo in tv, ma lei, signor Raffaele, quella scena l'ha vista qui dal vivo. Sì, 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 in effetti ero qui con mio figlio, eravamo a letto per riposare dopo una giornata di mare e poi siamo stati investiti da questa grossa esplosione e poi sicuramente siamo svenuti e abbiamo continuato a dormire. Poi appena ci siamo resi conto di cos'era successo, che c'era allarmi delle auto che suonavano, elicotteri che giravano e così via, e abbiamo realizzato un attimino che c'era qualcosa di grave che era successo. E avete visto tutto quello che era successo? Guardate, qua c'è delle foto, delle foto di allora, questo è un condizionatore che è stato scagliato, pensate, dall'onda d'urto sul letto. Esatto, esattamente. Il letto dove stavate dormendo, un miracolo che siete visti. Mio figlio era proprio ai piedi di questo condizionatore, c'era i piedi di mio figlio, ma per fortuna è andata bene. La casa è stata distrutta, ma anche la sua vecchia vita è stata distrutta, mi diceva poco fa questa espressione molto forte, per lei è stato come rinascere, perché? È stato come rinascere perché da quel giorno ci siamo resi conto che siamo stati graziati, il Padre Eterno ha voluto, come dire, non ci ha voluto portare con sé, quindi siamo rinati da quel giorno in poi, abbiamo dato maggiore peso a tutto quello che nella vita ha veramente peso, tralasciando soprattutto tutta una serie di banalità, di piccole situazioni che non sono fondamentali nella vita e quindi abbiamo deciso di cambiare, come dire, il registro. Grazie, grazie Raffaele per questa forte testimonianza, netta, carica di speranza e di vita e con questo messaggio noi vi salutiamo. È tutto da Via D'Amelio, da Palermo. Buona giornata, grazie a voi. E noi è doveroso un ringraziamento all'ottimo lavoro del collega della TGR Sicilia, Salvatore Fazio. Continuiamo a parlare di quello che ci lascia quella strage. Paolo Borrometi, è difficile ritornare a parlare dopo quello che abbiamo sentito, delle persone che hanno visto la storia compiersi sotto casa. Durante una domenica normale erano tornati dal mare e c'è stato lo sconquasso, è arrivata la strage. Oggi lo Stato ogni anno, da 30 anni, celebra e ricorda la figura di Paolo Borsellino, ricorda i suoi agenti di scorta, però la famiglia ora chiede silenzio e ricorderà in silenzio il suo dolore. Qual è il modo migliore per ricordare Paolo Borsellino? Innanzitutto rispettare la decisione della famiglia, tutto quello che abbiamo sentito dall'ottimo collega Salvatore Fazio e la paura che le persone che erano lì quel giorno hanno toccato con mano. Noi da giornalisti oggi abbiamo l'obbligo di raccontare, chiaramente, di ricordare ma poi fare silenzio in rispetto della famiglia. Da domani però continuare a chiedere verità e giustizia, continuare a porci quelle domande. Lo dobbiamo fare, è per noi fondamentale, perché se non si fanno i conti con la storia non si può andare avanti. E però ringraziare anche le istituzioni che in tutti questi 30 anni ci sono state a onorare, una figura straordinaria, quale è quella di Paolo Borsellino. Grazie a Paolo Borrometi, giornalista, vice direttore dell'Agi. Io volevo chiudere questo spazio dopo aver ringraziato naturalmente i nostri ospiti sulle note di un altro grande siciliano scomparso da poco che è Franco Battiato. Ascoltiamo. Difendimi dalle forze contrarie Non abbandonarmi mai Non mi abbandonarmi mai Non mi abbandonarmi mai Non mi abbandonarmi mai Non mi abbandonarmi mai